Prima di cominciare lascia un like, iscriviti e attiva la campanella Non mi preoccupate, quando c'è fight ci sono io Io si attivita un p***o Io 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 Ma c***a Adesso che non sai che c***a molto cominciare Aspetta Oddio, la riforma Ma la c***a Mi***a Da Russia Da Russia E st***a Teddi il p***o Come la madre di Teddi 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 Resting this for Teddi Barney Dimmi Ma Ma che voce vede Guarda come me lo c***o Guarda come me lo c***o Con me lo c***o B***o B***o Io sto laggando giusto Io sto laggando Ma dove siete voi Firenze Firenze Auri proprio Chi ha la fidanzata Ma che la fidanzata Di auri Auri era Matteo Te lo ricordi che nel gioco Si chiamava gabriciere No No Perché me lo sono chiamato io A soldi piccolate Come fa la madre di questo quando sono il flauto Dov'è Ha piccolato ha piccolato Sì Oh c***o 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 Calibarmi Un'attimo sottocento No vabbè Ma che Ah le vende me le fa tirare dopo ventinove secondi Praticamente Sto facendo Sto facendo C***o 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 I venditori sapranno di cosa sto parlando Cos'è quello Oddio Che non mi do Non mi resta ripetendo Mi odio Dawevo Mi sto pensando Vi odio a morte No, noi Stavo parlando qua Al telefono Vieni qua Da bölume Smir Ma voi Vi conoscete La vidriale TNT Bourne No Ma chi ma di dove sei tu ma mia bernie barni è facile barni è di dove si sta sparando ma sto molto piccola no sono qui da me ma non mi sa che c'è gente ma io mi spara uno da qui c'è una c'è una c'è una c'è una c'è una con l'arco occhio oltre da me venite venire ma poi le amore guarda quel p***o era uno io sto uscendo da so wish moon se ci riesco sono un dio se vuoi questo non amo guardare che la chile me l'ha dato con due anni o destini qua c'è il primo quello che lo vanno da 8 ma lo stanno diciamo la piccola guarda della mia scelata non c'è l'ombra il capo minchana camera sono chi la di otto visto in un super giù si è fortissimo lo so è umile si è guardatevi che rimangono sono sempre più forti 20 21 sono sopra lì sopra lo spammato io per il primo e migliori si può solo sparare ora mi preoccupate quando c'è fight ci sono io ma donna oddio o dici ci sta curando venite qua te di ma dove c'è tu barney vieni ma mi vedi ma se il compa mi fa 30 io così dovrei fare vieni barney vieni a curarmi ho tirato uno eh sta curando uno man here 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 come man ok easy e basta ma io ho fatto 10 kg e ci sta hai fatto i 9 frate si pure io grande frate bantati di meno comunque nella vita mi raccomando consiglio personale che ti do e ti ricordo che tramite il supporto creatore puoi supportarmi con il codice creatore tnt barney nello shop di fortnite che dire mi sento elegante se ti è piaciuto il video seguimi sui social iscriviti qua su youtube o guarda un altro video a te a a a Grazie per la visione!